In 50 anni persi due terzi della fauna selvatica del pianeta. L'allarme arriva dal WWF. Deforestazione e coltivazioni intensive distruggono habitat di animali e aumentano il rischio di pandemie. Matteo Alviti. Mammiferi, rettili, uccelli, pesci. L'allarme gridato dal Living Planet Index pubblicato ogni due anni dal WWF riguarda tutte le specie di vertebrati. In meno di 50 anni, dal 1970 al 2016, il 68% della fauna mondiale è scomparso. Dai gorilla di pianura in Congo agli orsi, dai pappagalli alle tartarughe, gli storioni cinesi. Il crollo della vita degli animali sulla terra documentato impietosamente dal rapporto preparato con la Società Zoologica di Londra. Soffrono più di tutti gli ecosistemi d'acqua dolce, poi di terra e di mare. Una distruzione che secondo le stime costerà ogni anno più di 400 miliardi di euro. Deforestazione, inquinamento, devastazione ambientale alla base del disastro. Tutti i fattori con un elemento in comune, l'uomo. È il nostro rapporto predatorio con la natura, mettere in crisi la fauna selvatica. Il pianeta sta affrontando non soltanto una crisi sanitaria, una crisi climatica, ma anche una crisi dei sistemi naturali. Dobbiamo assolutamente intervenire concretamente oggi per dare un futuro al pianeta. Meno animali vuol dire anche più pericolo per l'uomo. Con la distruzione di ecosistemi fragili aumenta infatti il rischio di malattie zoonotiche, quelle trasmesse dagli animali all'uomo con il salto di specie. Potrebbero dunque ripetersi in futuro pandemie come quella che stiamo vivendo da coronavirus. L'uomo è avvisato. A Modena ha presentato il nuovo modello della Maserati.